Ciao, benvenuti alla nuova pillola di conoscenza. Qual è la dieta corretta? La dieta corretta è un regime alimentare, un nuovo stile di vita che affonda le proprie radici nel passato quando l'uomo era esente dalle malattie degenerative comunemente chiamate moderne. Difatti la nostra civiltà è abituata a confrontarsi con le malattie croniche degenerative che coinvolgono noi e i nostri parenti a tal punto che ci sembra ormai naturale che questo avvenga. È diventato normale fra virgolette avere qualche malattia, soffrire di diabete, colesterolo, essere in sovrappeso, cellulite, attrite, tumore, problemi di cuore eccetera. No, non è normale ma abbiamo accettato questa cosa come fosse una verità. Eppure l'uomo può vivere la sua vita senza subire l'aggressione delle malattie degenerative, riuscendo ad aumentare la propria longevità e in buona forma. Questo dipende soprattutto dalla sua alimentazione. Il corpo è come una macchina che se introduce la benzina sbagliata non funziona bene e pian piano degenera e si ammala. Maggior parte delle malattie sono provocate dalla cattiva alimentazione e dalle false informazioni che ci hanno propinato via via negli anni. Se tutti fossero in salute chi ci guadagnerebbe? Beh, nessuno. Per prima le care farmaceutiche, medici, ospedali eccetera. Studiando le popolazioni più longevi del mondo si è scoperto che seguono maggior parte un'alimentazione semplice ma corretta. Comunque non bisogna andare molto lontano per riscontrare ciò che avviene già nel regno animale selvaggio, dove per l'appunto gli animali campano senza subire malattie degenerative. Avete mai sentito parlare di una volpe con il colesterolo alto? O di un leone obeso? O di una giraffa con la gastrite colite? Beh, no. Al contrario si possono vedere animali domestici, gatti, cani, obesi, animali con allergie eccetera eccetera, proprio perché mangiano spesse volte le cose che mangiamo noi. Soffrono le stesse nostre malattie degenerative. Ebbene, la buona salute si basa su tre concetti fondamentali. La giusta alimentazione, la giusta integrazione, vitamine e minerali eccetera e la giusta attività fisica. Questo percorso viene descritto in maniera esortiva in varie pubblicazioni. Queste sono le verità che nessuno ci vuole raccontare. Vieni a trovarci in Erboristeria, Grotta della Salute a Chiampo, Piazzale Famila. Ciao e alla prossima.